E' stata ridotta in appello a 14 anni la condanna per Peter Polverini, ragazzo di 26 anni, che uccise Sansepolcro Katia de Lomarino nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016. Il suo arresto scattò nel mese di settembre, seguito dalla confessione. In primo grado il giovane era stato condannato a 16 anni. Avendone già scontati due, probabilmente in caso di buona condotta, potrebbe uscire anche in una decina d'anni. Rispetto al processo di primo grado, l'avvocato di Polverini, Mario Cherubini, è riuscito da ottenere le attenuanti generiche, ma per le motivazioni bisognerà attendere come sempre i canonici 90 giorni. Polverini si trova nel carcere di Orvieto dopo l'iniziale reclusione nel carcere di San Benedetto. Il ragazzo era impiegato alla Sisala a Campo di Marte. L'ultima notte della sua vita, Katia l'aveva passata con lui a bordo del sur del padre del ragazzo. Poi all'improvviso un litigio, forse dovuto alla tariffa della prestazione sessuale, inizialmente prevista per 10 euro. La donna ne avrebbe chiesti 20 e il giovane non ce li aveva. Da questo banale episodio sarebbe esploso il raptus di Polverini, che avrebbe prima preso appugnicati e poi tentato di strangolarla. Sceso dal SUV, aveva impugnato il martello del padre di professione operaio, colpendo a morte la donna la testa. L'arma del delitto venne abbandonata nei pressi della sua abitazione, dove venne ritrovata dai carabinieri. Ora la condanna in appello, ridotta a 14 anni, in attesa dell'ultima parola della Cassazione.